Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un altro video. Io sono Laura, se non mi conoscete, e benvenuti sul mio canale. Oggi review del secolo, no, dell'anno, no, del mese, del momento, ecco, diciamo, del momento, perché vi andrò a recensire, anzi farò di più, indosserò per tantissime ore, adesso non vi so dire quante ore saranno, ma saranno tante, una, la tinta liquida più discussa del momento, quella che tutte, tutte, tutte hanno usato, che hanno parlato, ne hanno parlato mari, monti, cose, città, e c'è chi si è trovato benissimo, c'è chi si è trovata malissimo, c'è chi ha fatto review col pugno di ferro, cish, accazzottate, mediatiche con l'azienda, e ovviamente io non potevo non dire la mia, perché io sono una makeup artist, sono una makeup addicted e dirò la mia. E di che cosa sto parlando, di chi stiamo parlando, qual è questa tinta liquida che ha tanto diviso la comunità YouTube, delle amanti del makeup, la tinta di Nabla, la Dreamy Matte Liquid Lipstick, le nuovissime tinte di Nabla, tinte che sono state attese con grande, veramente, con grande trasporto, ogni tanto Mr. Daniel Makeup metteva una fotografia in bianco e nero di questi colori, tutte quante a trepidare, tipo Ovetto, alla Coq, che si sta per cuocere, ci cuocevamo tutte quante del nostro brodo per sapere che cosa, quali colori, quale texture, quale confezione ci avrebbe proposto Nabla e il suo art director Mr. Daniel Makeup, e finalmente questo parto ha dato alla luce questa tinta, queste tinte sono un numero abbastanza cospicuo di tinte, non vorrei sbagliarmi, mi sembra che siano 14, mi sembra, però ovviamente io che non ho avuto la fortuna di poterle recensire avendole a casa gratuitamente, ho dovuto cacciare i miei din din, mami, yes, e ho voluto acquistarne una, perché ho voluto seguire il consiglio di Eleonora Manni, la ragazza che ha fatto questa review molto discussa, dato che la seguo da parecchio e la stimo, perché mi sembra una persona sincera, non mi sembra una che dice le cose tanto per dire, oppure per sparlare o fare cose in maniera cattiva, ecco questa è la mia impressione, ho voluto dare retta a ciò che mi ha detto e quindi ho acquistato una sola tinta, anche perché l'unico negozio che rivende Nabla nella mia città, almeno quello che io conosco, del brand Nabla prende tutto ciò, solo quello che è bio, quindi gli ombretti, mi sembra le matite, il mascara, tutto ciò che non è bio, cioè tutto ciò che contiene siliconi e parabeni, io non so se questo contenga parabeni, sicuramente una bella quantità di siliconi, ma ovviamente le tinte devono essere a lunga durata e quindi il silicone ci vuole, mi dispiace, quindi questo negozio vende di questo marchio solo esclusivamente le cose che non contengono siliconi e quindi le tinte non le ha, non ha neanche gli ombretti in crema, sì, per cui le tinte non ce l'ha e le ho dovute acquistare sul sito ed è stato un po' difficoltoso perché c'è stato veramente un boom di acquisti e ci è voluto anche parecchio tempo per averla a casa e allora ho voluto prenderne solo una anche perché poiché la tinta è molto soggettiva, cioè ad esempio questa ha il soggetto A dura 10 ore perfetta, il soggetto B dura 5 minuti e poi si sgretola, per cui prima di acquistarne una quantità cospicua ho pensato di prenderne almeno una e mi pare che costino 14 euro, quasi 15 euro, il prezzo preciso ve lo metto nell'info box in modo tale che aprendo nell'info box voi potete trovare tutte le specifiche del prodotto che vi sto descrivendo e ho pagato poco le spese di spedizione perché mi sembra che se si arrivava a spendere 21 euro si aveva uno sconto sulle spese di spedizione, infatti ho preso questo e poi ho preso l'ombretto, quello tutto brillantinato, non mi ricordo come si chiama, quello tutto tipo top coat brillantinato e ho preso il colore Stronger perché volevo un colore particolare, io adoro i malva, grigi, mi piacciono, mi stanno anche molto bene, come sono modesta, mi stanno anche molto bene, io no, e quindi ho voluto acquistare questo colore. Cosa dire della tinta in sé? Il tubo è di plastica, satinato, effetto sabbiato, il tappo è color rosa, oro rosa e la confezione la trovo molto elegante, è veramente simile alle tinte di Lime Crime, quelle di Anastasia Beverly Hills non lo so, forse anche simili a quelle. Nel tubo troviamo 3 ml di prodotto, che questo secondo me è una delle più grandi pecche di questo prodotto, perché 3 ml di prodotto è veramente pochissimo per 14 euro, 14-15 euro. Eleonora è stata quella che per prima ha messo l'accento, ha posto l'accento su questa cosa e io concordo con lei, 3 ml di prodotto è veramente pochissimo. Se pensate che le tinte Mulac, le tinte Gia Freestyle, le tinte Sephora contengono molto più prodotto per un prezzo equivalente, questo non è proprio un punto a favore di questa tinta. Un altro punto non a favore, vi dico già quelle cose che non mi piacciono, perché io non l'ho ancora provata, non l'ho ancora messa sulle labbra, vi sto dicendo quello che sto provando così a pelle. Un'altra cosa che non mi piace di questa tinta è l'odore. Molte dicono che di non sentirlo l'odore, altre dicono che il dolore è paradisiaco, per me questo odore è orribile. Non voglio scatenare una polemica, perché a me questo odore non piace e ve lo spiego anche perché non mi piace questo odore. Perché assomiglia all'odore, e ripetiamo odore, di un antibiotico di quando io ero piccina. In realtà è un antibiotico che c'è ancora e si chiama, vabbè non lo dico, ha un antibiotico che è sotto forma di sciroppo ed ha questo odore, un misto tra la vaniglia e la fragola, quel finto buono super chimico che disgusto, cioè a me mi disgusta e a me questo odore non piace. Ma in generale le tinte non hanno un buon odore. Mi sembra solo quelle Wicon non abbiano un odore particolare. Questa invece ha questo odore fortissimo che io veramente non gradisco. Un'altra tinta che ha un odore orribile e che è veramente rivoltevole sono le tinte line crime, almeno quelle che ho io, quelle vecchie. Poi non so, spero che abbiano tolto quell'odore perché veramente, cioè era come aprire un barattolo di vernice, non mi piace assolutamente. Però neanche questo odore così, cioè come se fosse una caramella, però non è una caramella. Non mi piace tanto. E aprendo la confezione troviamo lo scovolino. Lo scovolino è piccolo, piccolino, di spugna, inclinato e ha una punta molto sottile. Questo significa che è stato progettato per poter bordare le labbra senza l'ausilio di una matita. Quindi potete semplicemente, con l'ausilio di questa punta sottile, andare a ricalcare il perimetro delle vostre labbra senza appunto usare una matita di contorno. Mamma mia. Perché Daniele? Un altro odore così brutto. Non mi piace. Andiamo a mettere la tinta sulle labbra. Questo è l'effetto con una sola passata. Io ho le labbra molto grandi e con una sola immersione dell'applicatore all'interno del prodotto liquido sono riuscita a ricoprire tutte le labbra, andando anche leggermente a sbordare qui la parte superiore. Aspetto che si asciughi leggermente e poi vado a fare una seconda passata. Oltre ad avere... Daniele non mi venire a fare... non mi venire a... non mettere un commento brutto qua sotto che mi arrabbio. Te lo dico già. No scherzo. Questo odore non è solo un odore, è anche un sapore e mi sta entrando in bocca. No. No. No 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 no. Questo no. Non mi piace proprio. No. Decisamente. Nel sapore, nell'odore mi dispiace. Lo so che potrebbero essere dettagli stupidi. Però pensate ad esempio... Non lo dico... Lo dico perché ci sono passata. Pensate a una donna in gravidanza che ha le nausee e quindi deve sentire questo odore fortissimo e questo sapore fortissimo in bocca. Cioè le butta. Quindi casomai la prossima volta un odore meno... E' un termine veramente molto tecnico. Per ora non si sono ancora asciugate. non so se si vede. Appiccica ancora. Però se faccio così, quindi stringo e allargo le labbra, il prodotto non se ne viene. Quindi non si staccano le pezzi. Perché ci sono delle tinte che in questa fase di appiccicume, se aprite e chiudete le labbra, se ne vengono i pezzettoni. Invece in questo caso no. Non abbiamo neanche la linea bianca. Devo dire che il prodotto si accumula leggermente. Cioè in alcuni punti vedo che il prodotto è un po' più coprente, più saturo. In altri punti invece è poco saturo. Soprattutto qui nella parte interna della mucosa. Questo significa che almeno per questo colore e almeno per il mio giudizio, cioè secondo quello che dico io, ci vuole sicuramente una seconda passata. Quindi vado a fare una seconda passata. All'inizio il colore è più chiaro. Quindi quando quello che vedete nel tubo è molto più chiaro rispetto a quello che poi sarà sulle labbra perché quando si asciuga ossida e diventa più, si vede penso, diventa più scuro. Questa è la seconda passata. Ora il colore sulle labbra è molto più omogeneo e non ci sono più quei punti più chiari e i punti più scuri. Quindi il prodotto si è agglomerato in alcuni punti e specifico non ho pellicine sulle labbra. Ho trattato in precedenza le labbra con uno scrub. Ho usato lo scrub al miele di Sephora, quello in stick. Poi ho utilizzato il Carmex per andare ad ammorbidire le labbra e poi ho utilizzato un altro prodotto ammorbidente e plumping per appunto renderle ancora più morbide e distese proprio per evitare che qualcuno mi dica eh ma quello si è accumulato perché ho le pieghette. No, non ho le pieghette. Sto parlando perché sto aspettando che il prodotto si asciughi. Ci vuole un po' di tempo. Quelle Mulac si asciugano molto più rapidamente. Questo ci vuole un po' più di tempo. Forse perché la consistenza del prodotto è molto più... cioè... si sente di più. Cioè quando si stende è quasi una crema. Quelle di Mulac sono un po' più sottili. Non sottilissime come erano in precedenza, però un po' più sottili. Queste invece sono un po' più corpose. E ci vuole ancora... ci vuole un po' di tempo per asciugarsi. Per esempio qua ancora... io la vedo lucida per cui ci vuole ancora un po' di tempo prima che si asciughi. Perché voglio farvi vedere... voglio fare la prova transfer. Cioè se è un completamente no transfer o no. Allora ragazze, sto vedendo una cosa in diretta. Ora, in questo momento... Facendo questa cosa... questa... vedete la mano? Questa... con le labbra... il prodotto si è un po' sgretolato e staccato qua. Non si è tolto, però... quando apro le labbra vedo la tinta che si alza un po'. Quindi significa che non dovete stratificare troppo il prodotto. Perché se lo stratificate troppo... potrebbe sgretolarsi. Non mi piace questo fatto che continua il prodotto a essere appiccicoso. Le tinte Mulac non lo fanno. Per esempio le tinte Wicon lo fanno, che rimane sempre un po' appiccicoso. Le tinte Jeffree Star non lo fanno. Le tinte Sephora non lo fanno. Questo invece si... sto aspettando. Può darsi pure che dopo, non so, una mezz'oretta scompare. Questo ve lo dirò con il video upgrade della giornata. Adesso proviamo a fare la prova sulla mano. Pulita. Faccio vedere tutte e due. Cioè Laura, tu hai fatto... hai imbrogliato. No, non l'ho imbrogliato. Le mani sono pulite. Vado. One, one. Avete capito, ragazzi? One, two, three. Nooo... Nooo... perché? Spero che si veda. Cioè, sono venuti i pezzi. Sono venuti i pezzi. Qui. Qui. Si è sgritolata. Oh, damn. Spero che si veda. Ah, adesso sta andando via la sensazione di appiccicoso. Ci vogliono 10 minuti circa. Però adesso è più confortevole. È più vellutata. Bisogna farla asciugare bene. Non stratificatela troppo, soprattutto qua all'interno. o almeno la tinta Stronger. Proprio perché si sgretola un pochino. Io adesso vi lascio alla giornata con Stronger di Nabla della linea Dreamy Matte sulle mie labbra. E ci vediamo alla fine del video per sapere, così lo saprò anche io, come queste tinte si sono... come queste... come questa tinta si è comportata. Ciao! Ok, sono le... 4-20. E ho pranzato. E questo è il risultato della tinta dopo aver pranzato. ho mangiato... Mamma mia, c'ho la faccia lucidissima. Stamattina ho fatto... una maschera idratante. Oltretutto... ho fatto un video e mi sono struccata alla... proprio... quindi c'ho la pelle tutta... Sembra che c'è un chilo di illuminante. Bene, ho divagato di nuovo. Guardate anche qua. Non sto divagando di nuovo! Ah! Ok. Ho mangiato... pasta e pisilli. Due bocconcini. Poi ho mangiato... le frittelle di fiori di zucca. Che sono grassi, ovviamente. E poi... un'albicocca. E un pezzo di dolce. E ho bevuto. E questo è il risultato. Devo dire, proprio niente male. Si è... Ogni tanto... Allora... Mi sono trovata qualche pezzettino... di tinta... che si è disgregato. Qui... e un altro qui... che ho tolto. Oltretutto... sia sul bicchiere... che sul... la posata... sul cucchiaio... il prodotto... a contatto con... con l'olio... si è... si è sciolto... quindi... ammacchiato sia il bicchiere... che... il cucchiaio. però... come potete vedere... non si è assolutamente... guardate... è ancora tutta qui. Cioè... sembra quasi che non abbia mangiato. Forse se mi allontano un po' così si... si percepisce che qua... c'è una variazione cromatica... perché si è... un po' sciolto il prodotto però... tutto sommato... ancora tiene... mi dispiace... perché... ho sbordato un po' in realtà ho sbagliato... perché... con le luci in studio... ho sbagliato... ho sbagliato a sbordare... ho sbagliato... a... a fare un contorno un po' più... per cui... qui... e qui... non è... non è proprio uguale... proprio avrei dovuto... giocare di matita... ma... per fare la prova... non ho usato matita... però... questo... è il risultato... e io l'ho indossato... verso le... 12 e mezza... 12 e mezza... l'1 e mezza... 2 e mezza... 3 e mezza... sono tre ore che lo indosso... e anche qua... eh... sta ancora bene... anche sui lati... per un pochino qua... dunque ragazzi... siamo alla fine di questa giornata... una giornata lunghissima... mi dispiace anche... il... set... per... la ripresa non è... eh... dei migliori... ho solo la ring... accesa... e non ho neanche i fondali... chi si ricorda i miei vecchi video... con questo fondale... metta un pollice in su... perché vuol dire che è un iscritto... da molto tempo su questo canale... mi sto rendendo conto che in questo momento... guardandomi nello schermo della fotocamera... praticamente sono rossa... cioè... questo è il color delle mie mani... questo è il color della mia faccia... non so perché io sia rossa... forse perché sono rossa... no... in realtà... ho lavorato tutto il pomeriggio... sono stanchissima... sono... le 10 di sera... e... sono stremata... eh... anche per questo... non sono riuscita... a montare il... set completo... però... eh... voglio... concludere questa review... su... eh... Dream Matte Liquid Lipstick... di Nabla... eh... ricordo che quello che ho... indosso è... Stronger... e... voglio tirare le somme... su questo rossetto... ha avuto su di me... una durata pazzesca... io... l'ho indossato... a mezzogiorno... mezzogiorno... l'una... le due... le tre... le quattro... le cinque... le sei... le sette... le otto... sono dieci ore... che ho... questo rossetto... sulle labbra... e come potete vedere... è ancora qui... ehm... è veramente... a lunga durata... eh... la sensazione di appiccicume... che... avevo all'inizio... poi col tempo... è passata... durante la giornata... mangiando e bevendo... il prodotto si è trasferito... molto spesso... sui bicchieri... ad esempio... sulla posata... se avete visto... eh... il... micro video... che ho fatto... durante l'ora di pranzo... eh... il... il rossetto... si era tutto spiaccicato... sul... sul cucchiaio... però... comunque... è rimasto... bello intatto... a onor del vero... verso la metà del pomeriggio... soprattutto... parlando tanto... cioè... anche se non avevo bevuto... e non avevo mangiato... parlando tanto... cioè... ehm... ovviamente... quando uno parla... eh... le labbra si bagnano di saliva... cioè... è normale... e la saliva... a contatto con... diciamo... la linea... eh... tra la mucosa... senza rossetto... e la parte con il rossetto... aveva formato... un po' di linea bianca... infatti... me la sentivo un po'... perché non solo era... bianca... ma... mi dava proprio quella sensazione... un po'... melmosina... un po'... blu... ecco... blu... e... sì... si era formata questa... questa linea... però poi... eh... dopo un po'... facendo... mh... così... si è tolta... non mi sembra di averla ancora... ho cenato... ho cenato con le melanzane grigliate... quindi... un prodotto oleoso... e... la mozzarella... un prodotto grasso... e il rossetto è ancora qua... e per questo... vi posso dire... dopo averlo testato... dieci ore... che... i liquid lipstick... di Nabla... sono... veramente... a lunga durata... mh... non... sono... completamente... non transfer... ogni tanto... si sente qualche pezzettino... che si stacca... ma niente di tragico... formano un po' di linea bianca... se parlate troppo... quindi... se la saliva... va a contatto con il prodotto... però... veramente... durano tantissimo... almeno... Stronger... dura... tantissimo... per questo... sicuramente... quando avrò l'occasione... eh... acquisterò qualche altro... mh... qualche altro... liquid lipstick... per provare... quindi... qualche altro... colore... per vedere... se hanno... la medesima performance... di questo... che... vi ho... mostrato... durante... questa giornata... questo prodotto... non è un prodotto... biologico... perché la composizione... è fatta prevalentemente... di... eh... siliconi... e... gli unici due... ingredienti... che possono essere... riconducibili... ad una composizione... biologica... è la cera d'api... però... sto leggendo... bene... quindi... neanche la cera... neanche la cera d'api... e... però c'è... il burro di karité... che dovrebbe dare un po' più... questa... sensazione di... di labbra idratate... che più o meno... eh... non è tanto... proprio... tanto... tanto... è invece... un prodotto vegano... perché... tra i coloranti... che sono menzionati... al di sotto... della composizione... ehm... i... il rosso... eh... non ha il codice... è 120... che mi sembra che sia il codice... del rosso carminio... e come potete ben sapere... il rosso carminio... è derivato dalla... dal... dall'essiccamento del carapace... della cociniglia... quindi potete stare sicuri... voi che siete vegani... che questo prodotto... non ha... non ha... per fare questo prodotto... nessun animaletto... ha sofferto... quindi tutto a posto... e... io ve lo consiglio... mi è piaciuto... ehm... adesso... tralasciando tutta... la questione... e tutta... la... la... la diatriba... che si è venuta a creare... circa... la famosa recensione... di Eleonora... eh... devo dire che... ancora... rimarco il fatto che... il liquid lipstick... la tinta... il rossetto liquido... ha una performance... che è completamente soggettiva... e nel mio caso... è... promosso... mi è piaciuto... l'unica cosa... gli unici due aspetti... che non mi sono piaciuti... e che credo di aver detto... già all'inizio del video... eh... sono... l'odore... non mi piace proprio... e forse all'inizio del video... non l'ho detto... ma è il colore... il colore Stronger... non mi piace... perché sia all'inizio... è un po' chiaro sulle labbra... ha comunque questa componente marrone... che... eh... mi piaceva... che mi sembrava ci fosse... sull'immagine del sito... col tempo... durante la giornata... questo rossetto... eh... ossida tantissimo... fino a quando a diventare quasi grigio... cioè proprio grigio topo... e non mi piace... cioè... questo fatto che è diventato così grigio... eh... forse anche questo colore di rossetto... che mi sbatte così tanto... e non mi piace... quindi... molto probabilmente... se ne comprerò un altro... vorrò provare qualche colore un po' più vibrante... per esempio... il fucsia... o il rosso... perché questo colore... mi ha un po' deluso... come colore... invece come formulazione... mi è piaciuto... vi faccio vedere ancora bene da vicino... dieci ore... indossate di questo rossetto... ok... spero che questa recensione... vi possa tornare utile... io vi mando... un bacio grande... vi aspetto sempre qui sul mio canale... sempre su Makeup Nukes... ciao...